Noi oggi ascolteremo quali sono le loro proposte, prima dell'incontro non lo possiamo sapere. Oggi è un primo incontro in cui ascolteremo quello che il PD ci proporrà e noi viceversa magari faremo delle proposte. Poi vedremo come va questo primo incontro, se ci saranno delle proposte, le valuteremo, penso noi valuteremo loro e loro valuteranno le nostre e poi vedremo tutto qui.